Salve a tutti! Allora quest'anno alla EOI di Terrassa proponiamo un corso online per chi ha raggiunto il livello B2. Il corso si chiama Ne Parlano alla Radio perché fondamentalmente diciamo per la maggior parte del tempo partiremo da programmi radiofonici per parlare di temi di attualità. Non vi preoccupate non parleremo di Covid che già ne parliamo troppo. Parleremo di altri temi e a volte anche di cambiamenti nella società che sono conseguenza purtroppo del momento che stiamo vivendo tutti. Questo corso è nato da una convinzione mia fondamentale cioè l'importanza dell'ascolto nell'apprendimento di una lingua, dell'input orale e su alcune domande che mi sono posta. Cioè se io penso un po' alle lezioni che faccio normalmente moltissime volte si parte dalla lettura di un testo scritto. Ma quando uno studente decide di imparare o di migliorare il proprio italiano difficilmente si scrive pensando Ah io leggerò tanto, io saprò leggere molto bene, io saprò scrivere molto bene. La motivazione principale di chiunque voglia imparare una lingua straniera è poter parlare e poter comunicare. Giusto? Allora nella comunicazione c'è sempre una parte importante di ascolto e poi ovviamente una parte di produzione orale. Ok? Visto che oggi la tecnologia ci permette di fare certe cose che magari 10-20 anni fa non potevamo fare perché non pensare delle lezioni che partano invece che dal testo scritto partano da un testo orale. Nel caso di questo corso partiremo da programmi radiofonici. Programmi radiofonici che trattano di temi di attualità e in cui intervengono sia il pubblico, le persone normali che telefonano, sia degli esperti. Allora cosa significa questo? Che io potrò ascoltare sia delle persone che parlano in modo un po' magari più formale e anche delle persone che si esprimono come si esprimono più o meno tutti i giorni. C'è un'altra questione che io mi sono posta. Sempre nella lezione classica io entro in classe, propongo un testo, leggiamo questo testo e poi magari chiedo agli studenti che ne pensano di questo tema. Ma non so voi ma io non ho un'opinione formata su tutti i temi. Ci sono molti argomenti che magari non conosco e altre questioni su cui magari non mi sono formata un'opinione perché ne ho sentito parlare ma non ho avuto tempo, ma magari anche l'interesse è un momento, di fermarmi per riflettere e pensare che ne penso io o sono d'accordo o non sono d'accordo. Quindi se io consento agli studenti di ascoltare a casa il programma in cui vengono a contatto con diverse opinioni è più normale, diciamo, è più naturale che abbiano il tempo di formarsi un'opinione e quindi poi di poterne discutere, poterne parlare più o meno informati a lezione. Quindi, riassumendo, nella maggior parte del tempo quello che faremo sarà che gli studenti ricevono prima su una piattaforma online Moodle tutto il materiale una settimana prima e hanno il tempo quindi di ascoltare l'audio che non sarà mai più di 30 minuti, 40 minuti al massimo, una cosa così, avranno una scheda con lessico estratto da questo programma che ascolteranno in modo sia da facilitare la comprensione sia da aiutarli poi per esprimersi, magari possono cercare di riutilizzare alcune di queste espressioni che hanno visto. Direi l'80% della lezione sarà discussione e attività orali e, visto che nel B2 non è che sia una cattiva idea ogni tanto ripassare qualcosina o rinfrescare un po' alcuni temi che sono un po' più ostici, allora più o meno un 20% della lezione invece la dedicheremo un po' alla grammatica, un po' al lessico. A casa poi avrete un esercizio anche lì per riutilizzare il lessico che avete visto o per consolidare il tema di grammatica che abbiamo ripassato. Martedì prossimo che il 6 ci sarà una sessione online alle 7 di sera, se volete partecipare per farmi domande o per parlare con me o semplicemente per conoscerci, a me fa piacere di conoscervi, potete contattarmi alla mail che vi metto qua, vi contatto e vi passo il link di Zoom. Ok? E con questo credo che sia tutto e vi saluto e buona serata. Ciao!